La Calabria si conferma l'area più povera del paese. Emerge dall'ultimo report dei conti economici territoriali tra il 2016 e il 2018 pubblicato dall'Ufficio Studi dell'Istat. E così il Pil Pro Capite vede in cima alla gradatoria l'area del nord-ovest con un valore in termini nominali di oltre 36.000 euro, quasi il doppio di quello del mezzogiorno, pari a circa 19.000 euro annui. Cresce dunque il divario tra l'area più ricca del paese e il sud e la Calabria è fanalino di coda su diversi parametri, la flessione del prodotto interno lordo, indice che misura il livello di ricchezza di un territorio che segna meno 0,8% e ancora la capacità di spesa delle famiglie dove la Calabria registra un tasso ancora più basso della media nazionale, visto che in un anno segna appena lo 0,41% e poi il Pil Pro Capite con 17.000 euro, il valore più basso a livello nazionale. La Calabria però rimane in testa alle classifiche per lavoro nero e irregolare e la regione in cui il peso dell'economia sommersa illegale è massimo con il 21,8% del valore aggiunto complessivo.